Nei prossimi giorni a Gandino si festeggiano i Santi Martiri Patroni, ma anche l'occasione per far festa per alcuni importanti anniversari. Spieghiamo un po' tutto. Esatto, giorni di festa per la nostra comunità di Gandino, in occasione di questa festa, che è di fatto la festa del Paese. La prima domenica di luglio festeggiamo i martiri Ponziano, Valentino, Quirino e Flaviano, i nostri patroni, e in questa circostanza vogliamo anche festeggiare alcuni anniversari di ordinazione sacerdotale. Quest'anno in modo particolare i 25 anni di ordinazione del parroco Don Innocente Chiodi e accanto a lui i 25 anni del gandinese Don Stefano Bonazzi e vogliamo ricordare anche i 65 anni di ordinazione sacerdotale di Don Giovanni Frana, un altro sacerdote gandinese. Questi giorni sono, come dicevamo, giorni di festa. Inizieranno appunto con la traslazione delle reliquie dei Santi Martiri Patroni, giovedì, con la messa delle ore 20 in Basilica. Porteremo le reliquie di questi Santi dall'altare loro dedicato, fin sopra l'altare maggiore. Anche questo è significativo, la nostra fede, che si rifà un po' alla fede dei martiri, la fede di coloro che non hanno esitato a donare la vita appunto per il Vangelo, per testimoniare Gesù Cristo. Venerdì sarà la volta dei ragazzi del Crema, di tutti i ragazzi della nostra comunità. Sono invitati alla messa delle 17, sempre in Basilica, per meditare appunto anche sulla figura dei martiri. Accanto a quella dei martiri ci sarà anche la figura degli Apostoli Pietro e Paolo, ricorrendo appunto venerdì 29, la loro festa. E poi l'appuntamento un po' speciale quest'anno è quello di sabato sera, alle ore 21, nel Cinemateatro dell'Oratorio, il musical L'amore è quello vero, Chiara e Francesco interpretato da ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie intere della nostra comunità, proprio in occasione del 25esimo anniversario dell'ordinazione di Don Innocente, di Don Stefano. Ecco, vogliamo stringerci a loro con questo musical, parlando appunto della figura di Francesco e Chiara, sempre attuale anche nei nostri giorni, e quanto più attuale per noi sacerdoti. Ecco, il musical tra l'altro non l'abbiamo voluto sponsorizzare, anche in altri paesi, perché vogliamo che sia un po' una cosa nostra, una cosa di famiglia, insomma. e faremo in modo di poterlo ampliare, insomma, poter invitare anche tutte le altre comunità che vorranno prendervi parte, più avanti, da settembre in poi, prendo l'occasione, se mi è concesso, di invitare anche altri oratori ad accogliersi nelle loro sale teatrali, cinematografiche, insomma, per portare un po' anche le loro comunità a questo bel musical. Concludo dicendo che il programma, un po' di domenica, la messa solenne delle 10, presieduta appunto dal parroco Don Innocente, e concelebrata da altri sacerdoti, tra cui appunto Don Stefano e Don Giovanni. Alle 16 la comunità è attesa qui in oratorio, tutta la comunità è qui in oratorio attesa per il brindisi con loro. Alle 17.30 i Vespri solenni presieduti dal parroco, e concluderemo con la messa alle 18, la messa solenne alle 18, presieduta appunto da Don Stefano Bonazzi. E poi la banda del paese concluderà la festa alle 20.45 in piazza con il concerto.